buonasera a tutti dal vostro grande capitano napoli benvenuti in questo nuovo video appena terminato breccia miglia il primo anticipo del venerdì valevole per la ventunesima giornata di serie a ed è terminato con la vittoria esterna per mila per 1 a 0 con gol al 71esimo di rebice il mila fa tre vittorie consecutive in campionato ed in questo momento addirittura il mila prima che giocano tutte le altre sale sesto posto a 31 punti in questo momento il brescia rimane a pari punti con la spalla 15 in un primo tempo di sostanziale equilibrio devo avuto comunque tre occasioni il mio e due il brescia il secondo tempo secondo me è una buona occasione anche il brescia con torri grossi ma grande secondo me c'è di due parate una delle due su torri grossi una grande parata di una roma al 71esimo arriva a vantaggio del mila su una misch in aria da dentro l'area si girerebice molto bene e a circa un metro e mezzo dalla linea di poca trafiggio il potere avversario nel finale contro piede grande sgruppata di tiaga hernandez bellissima azione per una clamorosa traversa a nulla serve il forse in finale del brescia che non riesce a trovare il pareggio mettete un bel like a questo video iscrivetevi al mio canale e mettete la campanella una buona serata dal vostro grande capitan napoli ciao 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 ciao